Una delle mamme con cui lavoro di una simpatia travolgente mi racconta che per adottare una comunicazione gentile ed empatica ha usato un tono particolarmente mieloso, assolutamente non in linea con la sua modalità. Il suo bimbo, un ottenne molto sveglio e veloce, l'ha guardata probabilmente con un misto di preoccupazione, mio Dio mia mamma ha contratto qualche strano virus e di stupore o forse un alieno si è impossessato di lei ed ovviamente ha risposto con una lievissima punta di sarcasmo. A parte il fatto che i due personaggi in questione potrebbero tranquillamente inscenare uno spettacolo teatrale e dovrebbero un successo planetario, questo commento ci dà la possibilità di fare alcune considerazioni utili. Il metodo 3x3 prevede necessariamente uno stile di comunicazione che faccia sentire il figlio compreso e richiede un comportamento rigoroso ma sereno e gentile. Non è una carineria, è scienza. Se il cervello del nostro interlocutore non si sente compreso, entra in una situazione di allerta e propone un atteggiamento o di chiusura o di attacco. Questo ovviamente scatena circoli relazionali di opposizione, conflitto, frustrazione per figli e genitori in una dinamica educativa totalmente inefficace. Nei miei audio io spesso utilizzo esempi con toni e parole leggermente esasperati ma semplicemente per far capire bene la direzione che dobbiamo seguire. Ma nella realtà dei fatti è necessario utilizzare dei toni assolutamente adattati al vostro stile, allo stile di vostro figlio e all'età di vostro figlio. Per costruire una buona relazione di ascolto con i figli è necessario essere fedeli allo schema che fornisco nel metodo 3x3, ma lo stile con cui lo fate deve essere assolutamente personalizzato. Essere gentili non significa essere mielosi, essere empatici non significa vocina in falsette vezzeggiativi. Amore mio bello, pensa di poter capire bene quello che dici, si può trasformare in un semplicissimo, sì ci sta, una delle mie risposte empatiche preferite. Anima mia, oggi abbiamo fatto tante cose belle ed ora bisogna andare a letto perché domani tu possa avere tutte le energie che ti servono, luce dei miei occhi. Può diventare in, oh è una rottura andare a letto adesso, l'unico modo per star bene domani. Insomma si può essere molto easy, molto asciutti, ma assolutamente empatici e strategici. La gentilezza non sta nei vezzeggiativi o nelle vocine. La gentilezza sta nello scegliere le giuste parole che facciano sentire la persona compresa e non accusata con lo stile che vi sta meglio addosso. Ovvio che se vi rendete conto che il vostro tono, pur non volendolo, viene percepito come troppo secco e poco affettivo, beh lì dobbiamo un pochino lavorarci. Non serve trasformarsi in biancaneve, ma semplicemente trovare un modo per far percepire al figlio i messaggi utili. L'amore per essere un buon nutrimento non deve essere solo provato, abbiamo bisogno anche di farlo percepire. È poco utile amare infinitamente i figli se poi loro non lo riescono a sentire. È poco utile comprenderli se loro non lo sanno. È inutile dare regole vantaggiose per la vita se i figli non ne capiscono l'utilità. Quindi rispettiamo i tre passaggi della comunicazione e troviamo il nostro stile per esprimere empatia, amore ed incoraggiamento in modo che i figli lo possano percepire senza alcun dubbio.